ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole oggi ragazzi attenzione perché ovviamente presentiamo un coltello di fox di altissima gamma uno spettacolo ragazzi ma soprattutto inizia una rubrica chiesta attenzione dalle vostre mogli avete capito bene dalle vostre mogli per scegliervi un regalo di natale che finalmente vi faccia sorridere al pranzo con i parenti quindi hanno chiesto a me ragazzi ho pensato di fare questa rubrica in cui vi faccio vedere dei prodotti o meglio le faccio vedere alle vostre mogli per scegliervi il regalo di natale meglio di così ragazzi oggi partiamo ripeto con un pezzo di fox veramente spettacolare lo yaru che andiamo a vedere insieme eccoci qui ragazzi pronti al test con la nostra bella corda sintetica ragazzi facciamo 25 tagli alla volta ogni volta che arriviamo a 25 c'è la tacchetta che ce lo indica e proveremo quanto taglia ancora il coltello non avevo abbastanza corda per fare 100 tagli ne facciamo 92 poi entriamo con la corda di canapa e gli facciamo veramente male partiamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ragazzi siamo arrivati a 92 tagli non avevo più corda adesso andiamo con la corda con cui facevamo i 50 tagli ragazzi ve la ricordate partiamo con sta corda e vediamo come va questa è bastarda questa è canapa 46 tagli ragazzi 46 tagli vediamo come va pochettino pochettino ha perso ragazzi anche se s90 un pochettino ha perso adesso gli diamo una bella riaffilata o ragazzi si è fatto tutti i 92 tagli sulla corda di canapa e poi si è fatto 40 passatagli sulla corda di canapa solitamente nelle prove dove provevamo nelle sfide dei 50 tagli erano solo 50 tagli sulla canapa e qui si è fatto i 92 prima ragazzi adesso vado a riaffilarlo e lo teniamo un bel rasoietto ragazzi due secondi due stroppatine e vediamo come è venuto tra l'altro ragazzi consideriamo una cosa abbiamo usato il post it solitamente nella prova dei 50 tagli andavamo ad utilizzare gli a4 che sono molto molto più rigidi qui abbiamo usato il post it ragazzi il post it è sottilissimo è sottilissimo però per l'S90 ragazzi S90V secondo me è stato un test doveroso provarlo su una carta fine sinceramente mi aspettavo qualcosina di più una puntina di più mi aspettavo che non perdesse niente ha perso un puntino però con una stroppata è tornato immediatamente un bel rasoio eccoci qui ragazzi pronti a partire con questa nuova rubrica e quando si parte con una nuova rubrica bisogna partire con il botto ragazzi qui partiamo con un pezzo di altissima gamma un regalo di natale da paura da paura da paura mogli se prendete questo a vostro marito secondo me ragazzi è amore eterno per tutta la vita butta via anche il numero delle tre amanti ragazzi pezzo veramente spettacolare fx 527 titanio finitura pvd stonewashed ragazzi è incredibilmente bellissimo non ci sono altre parole veramente gran pezzo made in italy fox made in italy ragazzi gran pezzo ma voi non volete vedere la scatoletta volete vedere il coltello e lo andiamo a vedere anche se l'avete già visto in uso ragazzi quindi come al solito non è proprio un unboxing ma io sto S90V dovevo provarlo assolutamente ragazzi logo fox argentato la nostra volpina maniago made in italy di qua avete il sito ragazzi andiamo dentro andiamo dentro dentro abbiamo l'astuccetto in cuoio eccolo qui poi avete i soliti fogliettini ragazzi non ve li faccio neanche vedere dai oggi sono troppo esagitato per il coltello poccettina in cuoio fatta bene eccola qui fatta a mano in spagna ragazzi la pocce ve lo segnalo anche questo ok in cuoio fatta veramente bene invece andiamo a vedere un vero made in italy perché a noi della pocce ragazzi si ci interessa ma è la poccettina a noi interessa il coltello e il coltello ragazzi è qualcosa di spettacolare mamma mia mamma mia in questa finitura ragazzi è stupendo sarà che io sono pigliato bene con il titanio ultimamente ma ragazzi è stupendo è veramente veramente stupendo è bellissimo è bellissimo scattantissimo aperto ragazzi lo Yaru come vedete è un Suru allungato sempre disegnato ovviamente dal nostro amico Vox eccolo lì CPM S90 V ragazzi tanta roba Magnago Italy ragazzi acciaio veramente spettacolare un acciaio che promette prestazioni altissime oggi si è fatto 92 tagli sulla corda che ho ancora qua e non ho ancora buttato niente ragazzi eccola qua sulla corda sintetica che vi faccio vedere eccola qua corda sintetica 92 tagli in più si è fatto 40 e passa tagli sulla corda di canapa che è quella che utilizzavamo l'ultimo pezzetto che mi era avanzato nelle prove dei 50 tagli ragazzi ha tenuto il filo benissimo ha perso qualcosina sinceramente mi aspettavo un puntino di più però ragazzi dire che dopo 92 tagli di corda sintetica e più di 40 dell'altra sulla canapa che rovina il tagliente il tagliente taglia ancora e si riprende con una stroppata ragazzi dai sentite anche il corvo che dice cosa state dicendo questo è un coltello esagerato ragazzi è bellissimo è veramente realizzato da dio questa clip in titanio è un coltello anodizzato da bronzo ragazzi con la sferetta in ceramica perché quando la mettete nei vostri bei pantaloni non ve li rovina ragazzi entra in una maniera incredibile è bellissima cioè ragazzi qui parliamo comunque di un coltello di altissima gamma parliamoci chiaro non stiamo parlando del coltellino questo è un coltello da appassionato non guardate le mie mani ragazzi sono sempre quelle sempre più tagliate da jack ragazzi mi sta squartando le mani e il freddo pure perciò lasciamo stare nel bosco col freddo ragazzi hai voglia a mettere nivea sulle mani hai voglia ragazzi il coltello è fighissimo fighissimo questa apertura scattantissima poi ok avete anche il foro per aprirla però ragazzi apertura flipper mega scattante è una figata è una figata il filo ragazzi vi faccio vedere che io l'ho solamente stroppato S90 fa paura vi do due misure il coltello nella sua interezza misura 17 cm con questa lama dalla punta a qui ragazzi al ricasso qui a metà della finger praticamente di 7 cm tagliente utile 6.6 da chiuso ragazzi misura scusatemi ma ho le manine tagliate faccio fatica sono tutto spezzettato ragazzi faccio fatica a manovrarlo ragazzi da chiuso misura 10 cm quindi piccolino un bel coltellino ragazzi adatto a un edisi urbano avete 7 cm di lama ragazzi ci lavorate bene avete una bella presa avanzata andate a lavorarci bene in mano a me piace un casino come sta ragazzi veramente un casino dietro lo prendete tranquilli davanti è la morte sua ragazzi veramente tantissima roba tantissima roba questa finitura mi fa godere da paura oh guardatela da vicino ragazzi è bellissimo una cosa che voglio farvi notare è la lock bar che ha due funzioni una ovviamente prendere il tallone della lama ok e quindi non fare andare il tallone durissimo della lama temperata 60 hrc contro il frame ragazzi quindi gli mettono questa lock bar in acciaio che ovviamente mettendosi tra frame e tallone della lama impedisce che il tallone della lama ma duro vada a rovinare il frame l'altra funzione che ha all'interno lo vedete eccolo lì vedete ha una specie di blocco per il frame quindi quando voi spingete in fuori il frame per chiudere il coltello oltre un tot non potete spingerlo perché dentro a quella barra lì che lo blocca quindi non permette un'apertura eccessiva del frame rischiando di rovinare il coltello ragazzi lock barra con questo meccanismo spettacolare le finiture le vedete voi ragazzi in mano è bello lo sentite bene ma ok vi posso dire che è bellissimo ragazzi che in mano è maneggevole tutto un bel coltellino potete andarci veramente a lavorare però ragazzi qui parliamo di appassionati e solo un appassionato può capirmi quando ho in mano un pezzo di questo calibro perché è veramente spettacolare ragazzi tutto titanio tutto titanio anche lo spaziatore posteriore in titanio tutto titanio ragazzi tutto titanio è un coltello esagerato è bellissimo questo è uno dei disegni che mi piace di più di Vox ragazzi perché la mano sta perfetta dove deve stare poi ovviamente vi parlo della mia mano però ragazzi è spettacolare qua in avanzata è qualcosa di bellissimo il coltello pesa 105 grammi quindi è leggero e poi ragazzi parliamoci chiaro avete un coltellino piccolino che ovviamente siamo in Italia tutti vorremmo portare alle sciavole ma questo è un coltellino di altissima gamma ragazzi un made in Italy spettacolare ragazzi è fantastico 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 la lama in S90V ovviamente gli dà un valore aggiunto un acciaio duro un acciaio super performante un super acciaio uno dei migliori in circolazione ragazzi con un uso normale qui ragazzi lo affilate veramente due volte all'anno lo affilate sto coltello perché è qualcosa veramente di sensazionale su un uso normale noi siamo andati a tagliare la corda di canapa che ai taglienti ragazzi li riduce in polvere quindi posso dire che questo S90 che per ora ho provato solo su questo Yaru è un acciaio strepitoso ragazzi veramente tanta tanta roba poi abbiamo fatto la prova sui post-it ragazzi sui foglietti leggeri dei post-it e non sulla carta da stampante che è un pochino più pesante ragazzi ovviamente un super acciaio è da provare in questo modo volevo proprio rendermi conto personalmente di quanto potesse tenere allora ragazzi il coltello costa un bel po' di dobloni questo coltello lo portate a casa prezzo di mercato 3 e 30 attenzione attenzione perché è Natale è Natale e da ETA-BETA-STORE il Natale si sente di brutto quindi attenzione avete con il codice sconto PDT-BEST tutto maiuscolo lo Yaru con il 30 scusatemi sì magari con il 10% di sconto ETA-BETA-STORE ti stavo rovinando con il 10% di sconto ma non basta non basta perché oltre al 10% di sconto sul nostro Yaru attenzione perché ETA-BETA-STORE vi regala il balistol quello in vetro lo conoscete tutti dai ragazzi non me lo fate aprire quello in vetro per la manutenzione delle vostre lame è una figata è tranquillamente mangiabile potete mangiarlo tranquillamente ragazzi eccolo qua che ve lo dice amico della pelle biodegradabile cibo sicuro andate via tranquilli ma come se non bastasse col balistol per tutti potete decidere ragazzi attenzione perché è Natale è Natale due coltelli della Fox made in Cina scegliete quale vi piace di più ragazzi o questo ok vediamo se abbiamo il codice così poi sapete qual è eccolo qua modello 1553 o questo ragazzi oppure questo modello 1552 G10 ragazzi questi due coltelli a scelta uno dei due è in regalo quindi potete scegliere con il codice PDTBEST il regalo questo per tutti poi potete scegliere se metterci o questo o questo ragazzi sono due coltelli economici di Fox sono due coltelli made in Cina però ragazzi vi regalano un coltello quindi vi prendete quello col 10% di sconto e in più vi regalano uno di questi due a scelta sotto quando concludete l'ordine in fondo scrivete nei commenti nelle note all'ordine quale dei due coltelli volete e ve lo tirano a casa gratis ragazzi ovviamente adesso questi qua sono coltelli economici vedere i coltelli economici dopo aver visto questa meraviglia ragazzi ok però sono regali e i regali ci piacciono ragazzi ragazzi cosa posso dirvi coltello spettacolare è un coltello che se avete la possibilità ragazzi io prenderei qua intanto l'ho già sporcato sì no adesso l'ho pulito era un mio sputacchio ragazzi è un coltello bellissimo ragazzi è un'opera d'arte complimenti a fox davvero complimenti per questo pezzo ripeto mi aspettavo una puntina in più dall'S90V però devo dire che ha tagliato veramente tantissimo ragazzi tutta la canapa praticamente ha perso una sciocchezza perché poi con una stroppata si è ripreso il coltello è spettacolare è bellissimo e se volete fare un regalo di Natale che veramente ragazzi vi fa godere ma vi fa godere a livelli assoluti mogli questo è un regalo di Natale bellissimo andiamo alle conclusioni finali fox yaru con manicatura in titanio lama in S90V e finitura pvd stonewash ragazzi un coltello da stare a guardare un coltello da guardare dovete farci l'amore con questo coltello davvero quando vostra moglie ha mal di testa ci fate l'amore con questo coltello è bellissimo ragazzi davvero un gioiello di fox un blocchettino di titanio ragazzi spettacolare veramente spettacolare con lui e grazie a ETA Beta Store per la collaborazione in questa recensione parte questa rassegna questa vetrina di regali di Natale che aiuteranno proprio le vostre moglie ragazzi a scegliervi il regalo che vi farà sorridere a Natale al pranzo con tutti i parenti la prima volta dopo dieci anni ma quest'anno sarete felicissimi ragazzi durante il mese vedremo diversi prodotti ovviamente ho cercato di scegliere anche diverse fasce di prezzo partiamo con questo coltello che è una bomba una bomba ovviamente al suo prezzo ragazzi però un coltello di altissima gamma made in Italy di Fox ragazzi dallo Yaru di Fox dal parchetto del tagliagole tutto buona giornata e ciao ciao